Musica Proseguono in città gli interventi straordinari di pulizia delle caditoie stradali per prevenire il rischio di allagamenti. Questa mattina in via Cupa Cimitero a Barra abbiamo seguito le operazioni effettuate con l'escavatore a risucchio, un macchinario potente in dotazione al servizio ciclo integrato delle acque del comune, capace di aspirare qualsiasi tipologia di materiale e rifiuto. L'escavatore a risucchio è un mezzo che noi al servizio centrale mettiamo a disposizione proprio in occasione di queste pulizie straordinarie, in previsione delle piogge post estive. Riesce a risucchiare tutti i materiali, il terreno, i rifiuti ed ovviamente riesce a ripristinare il deflusso naturale delle acque. È un mezzo che agevola in maniera considerevole il lavoro di pulizia del sistema fognario, svolto dagli operatori in forza ai servizi tecnici delle varie municipalità. Il potente flusso di aspirazione consente una rimozione accurata di pietre, terra, fogliame e detriti che si sono accumulati all'interno di pozzetti e tombini, ripristinando i canali di scolo dedicati alla raccolta delle acque pluviali. L'escavatore a risucchio viene messo a disposizione delle varie municipalità a turno, molto spesso circa una volta a settimana può essere utilizzato dai vari SAT, ovvero quando si presentano delle necessità impellenti o delle emergenze per risolvere in maniera più semplice. Riesce ad evitare una grossa fatica agli operatori che nonostante l'età avanzata, una media di circa 63 anni, riescono ad operare sul territorio garantendo comunque il minimo di sostenibilità al sistema di captazione delle acque. Ogni municipalità conta mediamente 15 operatori impegnati tutto l'anno nella verifica del sistema fognario e nelle operazioni di pulizia delle caditoie normalmente effettuate con interventi manuali.